Piombino, XIII secolo, Toscana, Livorno, via streaming. Fantastica musica di Saint Germain Tourist. Utilizziamo sempre la tecnologia Quick per trasmettere in diretta i vostri eventi in modo semplice, intuitivo e innanzitutto gratis. Utilizzate gli strumenti della rete, qui a streaming fra un piombino, dove luoghi magici sta piovendo ma la magia rimane la stessa, immutata. Piazzale, Piazza Bobbio, porticciolo del XIII secolo, bellissime da 4-5 isole. Fantastica! Braviglioso, sta piovendo ma è bello lo stesso, l'isola d'Elba ha un palmo, la palma aiola. La connessione fantastica, sta volendo che il termorale si sta spostando verso l'interno. Ciao, da Piombino, ciao!